Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento col meteo di TV6 Splendil Sole su buona parte d'Italia per effetto di un momentaneo rinforzo dell'alta pressione anticiclone nord africano che si concentrerà soprattutto al sud mentre il nord fa i conti con correnti più instabili atlantiche le quali poi sul finire della settimana potranno interessare anche il resto della penisola. Per quanto riguarda questo martedì in Abruzzo si prospetta una giornata decisamente stabile, tardo estiva con cieli sereni ovunque, qualche nube alta in transito nei settori interni senza fenomeni annessi, le temperature gradevoli, caldo nella norma con massime tra i 28 e i 30 gradi, molto più fresco di notte all'alba, anche dopo il tramonto le minime oscilleranno tra i 16 e i 23 gradi, la ventilazione sarà debole a regime di brezza. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, tutti voi una buona giornata. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.